Adesso... Ciao Contarello, voglio un'idea... Sì, ciao... Com, Gimè e Com... Sì, sì... Ciao... Sì, sì... Sì, grazie... Sì, grazie... Grazie... Complimenti... Grazie a tutti... Grazie a tutti... Grazie a tutti... Che spettacolo... Poi questo sfondo è perfetto... Sì... Hai fatto... Ciao ragazzi... Ciao... 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 Grazie... Grazie a te... Ciao... Piazza della... Sì... 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 Prego... Grazie mille... Buonasera... Grazie ancora... Arrivederci... Grazie di tutto... Arrivederci... Ok... Grazie mille... Grazie mille... Grazie mille... Grazie mille... Grazie... Grazie... Grazie mille... Grazie mille... Grazie mille... Grazie mille... Grazie mille... Ciao... Sì... 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 Quindi Cristian... Paolo Sorrentino... L'uomo in più del cinema italiano... Giusto? La grande bellezza... Paolo Sorrentino... Grazie mille... Grazie mille...